Ho fatto un pesce d'aprile a Giorgetti, l'uomo che Caffoscari voleva ospitare alle 16 nel suo auditorium più bello e noi non possiamo accettare che la nostra università ospiti personaggi di questo tipo, personaggi che promuovono delle idee razziste e di sfruttamento del territorio. Giorgetti è il braccio destro di Salvini e uomo forte della Lega, il partito che ha devastato i nostri territori e che sta promuovendo in tutta Italia odio e violenza verso il diverso. Noi vorremmo invece che la nostra università promuovesse delle conversazioni sull'Europa, ma un'Europa aperta, solidale e accogliente e non che invece promuovesse il razzismo di Stato e un'idea chiusa.